Né di destra né di sinistra il popolo della famiglia, formazione a confessionale di ispirazione cristiana che mette al centro le politiche a sostegno della maternità. Si riparte solo se si torna a fare figli e questo va incentivato con politiche che queste elezioni mettono in campo, con proposte chiare. Sono credibili le proposte di chi non ha fatto mai nulla sul fronte della famiglia negli ultimi vent'anni governando il paese? Noi diciamo di no e per questo proponiamo il reddito di maternità di 1000 euro al mese per le donne che vorranno avendo figli dedicarsi alla famiglia. Proponiamo la riforma fiscale del quoziente familiare perché un single che guadagna 30.000 euro non guadagna gli stessi 30.000 euro di un papà di famiglia con moglie a carico e tre figli e la Costituzione dice che la tassazione deve essere progressiva. Proponiamo la libertà educativa, i genitori devono poter mandare i figli a scuola, nella scuola che desiderano dunque col meccanismo del buono scuola. Proponiamo 65 riforme concrete e immediatamente attuabili persino a costi contenuti e certificati per far ripartire davvero il paese.